Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo canale Qui è il Tiranno E qui Vic o Vic che dir si voglia E siamo qui su una co-op di Team Fortress Dov'è? Andiamo andiamo Sì esatto siamo una co-op di Team Fortress Chi non sa cos'è Team Fortress è un gioco a squadre Bellissimo dove Qui c'è un uomo bionico l'hai visto? L'ho visto Andiamo andiamo Non si faccia distrarre Eh ma è un uomo bionico E sì insomma in questo gioco Almeno in questa modalità dobbiamo portare Il nostro carrello Nel punto prestabilito Dove è finito? Se sbaglio Sì sì dove è finito lei Io sto bruciando un Mi chiami Mi ha congelato Bene perfetto Allora i video li farà il signor Tiranno Almeno i primi li monterò io Poi ci penserà Farà anche lui i suoi video Sì anch'io ma anche non soltanto di Team Fortress Infatti quindi magari lui farà Non so farà altri video di Skyrim o di Fallout Sì o altro quello che ci capiterà tra le mani insomma Ebbene Spero che questo video vi piaccia E buona visione Niente Ok incominciamo Cos'è? Un film? Sì E buona visione? Buona visione Buona visione Ok 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 da qui imparerete molti Abbiamo Dovete sapere che abbiamo già fatto tipo 4 video Ah ma noi siamo rossi Eh sì Ne abbiamo già fatto 4 video O 3 4 o 3 Bevo 3 video tipo Solo che giustamente Non si sentiva l'audio di Wick O Wick che dir si voglia Quindi un po' cacca Quindi abbiamo dovuto rifare Cioè stiamo rifacendo Appunto perché abbiamo la passione in corpo Sì tipo Sono le 10 di sera E un grosso davanti Ah non l'avevo visto No torretta Torretta Ebbene Dato che Sono dietro di lei Dopo 56 Alla vedo Dopo tantissimi video Tipo sono Ah PS Ah un quarto è finito Ehm Dopo tantissimi video Dobbiamo riuscirne a caricarne uno Quindi Su Dopo i nostri mille video provati a fare Sì Proprio inutili Comunque Che cazzo Stava volando Scusi starei dicendo Una cosa molto importante Ai nostri telespettatori Prego Prego Che Diciamo che il nostro signor tiranno Non è Un novizio come me Vabbè è giusto Sì Ehm È giusto Hai appena Cioè Ha riaperto di nuovo Un nuovo canale Insieme a lui Perché ovviamente Abbiamo deciso di fare un canale insieme Così per divertirci Sì Oppure perché Non abbiamo niente da fare Dalla mattina alla sera Giustamente Sì Perché noi ci svegliamo Diciamo Ma sì dai Facciamo dei video di Team Forte Ma sai una cosa bellissima Di quando bruci un pyro Eh Che vedi le tue fiamme Che gli escono fuori dagli occhi Bellissimi Sì poco ovviamente Mi hanno ucciso Mi hanno ucciso Mi hanno ucciso Il tiranno Chi sia stato Non si sa Se quelli Dei deboli tumori O se il blu Sarà facile Sì O forse Un grosso Hola Non so Non so cantare Ah sì E poi Team Forte Noi l'abbiamo appena scaricato Ah sì Ecco Piccola Piccola nota Perché Vabbè Questa cosa ve li stiamo dicendo Perché In tutti i nostri video Ogni tanto Dicevamo ste robe Ma Noi ci dimentichavamo Proprio di giocare Quindi Allora La cosa più importante Che metterò anche in descrizione Sarà che Sono dietro di lei Non mi dica ste cose Che è Noi Team Forte Non ci sappiamo Giocare Quindi Per favore Evitate qualsiasi commento Tipo Non sapete giocare A Team Forte Perché Questo qui È una serie Iniziato alla fine Sì Ed è una serie Fatta apposta Per Divertirsi Per imparare E vederci Un po' sclerare Anche se Possibile Vederci Soprattutto Vedere la nostra voce Sclerare Vedere la nostra voce Proprio vedere la voce Sentiamo i colori E parliamo al meccicale Giusto Giusto Eh perfetto Ovviamente I titoli dei video Li dirò tutti io Perché sono il migliore Qua a inventare i titoli Giustamente Infatti Questo video Ho già deciso Il bellissimo titolo Come si chiamerà? Dopo mille video? Dopo mille video? No Quella lì no Un grande video Che chiameremo Aspetta Zitto Daniele Eccomi Putello che rompe In sala Vabbè Sì giustamente Però lui non sa Che noi siamo delle Dele star Su youtube Proprio Sì eh Sicuramente Ah loro stanno Vincendo lì eh Se volete andare A fare un giro Sul canale Del signor tiranno Dovete cercare Il tiranno Ovviamente Ma mi sembra logico Vabbè Comunque Qui Non penso che Lo utilizzerò Più poi di molto Perché tutti i video Futuri che caricherò Saranno su questo canale Quindi quel canale lì Eh sarà Eh Si chiuderà insomma Sarà chiuso Davvero Sì che vero Addirittura Questa Questa grande Rivelazione Vabbè dai Dopo 45 iscritti Mi sono suicidato Ecco Invece mi hanno proprio Sparato Un Crivellone Un bello Ma lei è qui in base Anche lei no? Sì sì Sono appena uscito Nella base Ah appena uscito Aspetta l'ora che lei Inseguo destra o sinistra Eh adesso sto andando A sinistra del carrello Lei è un soldato? Sì Ah sono un profeta Io in queste cose Sì ma È tutto così È tutto così Ok bene Che sta facendo di Spencer Perfetto Ah no è vero Lei non è con Cioè lei non è un Ingegnero però Che successe Ho fatto un salto gigante Ah sì E la mia cam Si vedrà veramente poco La tua cam? Ah sì Avvero Ah nel senso Sì la mia visione In prima persona Un'altra cosa Che ci siamo dimenticati Di dire Che questa qui È la visuale del tiranno Il tiranno Sì magari Sto pensando Guarda Wick Invece non è il tiranno No è il tiranno E questa voce Che state sentendo Questa bellissima E suave voce È del tiranno E invece questa qua Registrata proprio Da Cani È quella di Vick o Wick Che dir si voglia Ebbene Come Pyro Hai raggiunto il tuo record Per le vendette In questo round Una Uuuuh Eh non sono molto Vendicativo io No La vedo la vedo E mi infiamma Eh ma tanto L'ho fuoco amico qua Eh giusto giusto E ancora un minimo Mi trovo davanti Un grosso E non posso più spararti Perché non ho più Voluzioni No qui c'è un dispenser A dirgli il vero Eh vabbè ma sa come sono io Mi piacciono le sfide Mi metto davanti al dispenser Dica Morto Ah che coglioni Eh Diugo Come si chiama Adesso non staremo neanche Facendo video Saremo già morti Piccati Assolutamente Oh stiamo portando avanti Il nostro Eh si però Intanto loro Stanno vincendo Questi qua Sono dettagli Signor Tiranno Sono solo dettagli Ah si è ritornato Giù Il carrello Ok Sto cercando di bruciare Un soldato Giù di demolitore Ah è diventato Un demolitore Si anzi di pyro Così brucio un po' di gente Così diventiamo Ma No Ho gli occhiali Ho gli occhiali Dicolò che gli occhiali Del pyro Fanno vedere tutto Come se fosse Un gigantesco Luna Park Ma perché ce li ho ancora? Ma seguo Ma seguo Io le bo Così tanto per vedere Cosa fa Ma non li posso togliere Madonna No Può toglierli Ma deve Quando sceglie il personaggio In basso a destra Cambia l'equipaggiamento Si ho capito ma Così facciamo anche un minimo di tutorial Vede Vede È un minimo proprio Ma che shotgun Usano gli scout Vabbè Non me li toglie Mi ha fatto volare indietro Non me li toglie Nell'equipaggiamento Non me li toglie Giocherò così Giocherà così Non più best Giocherà guardando Palloncini Uscire dai corpi Best visuale ever Best visuale In grande inglese Del signor T Run Sì Best visuale ever Ten out twelve Bellissimo Distrutto una torretta Incendiato un po' Giuse Muori Muori stronzo Muori Mi ha ucciso un certo Giuseppe Poi l'ha ucciso Ah Sì Good job Good job Good job Good job Very compliment Sono di tre lei Sì ho notato Non lo dica più Non lo dica più Io quando mi trasformo in Pyro E muori Muori brutto stronzo Muori Ecco sì Il signor Stefano Ogni tanto si Quando sono Pyro E tipo incendio qualcuno Divento un fottuto Che è successo Noi abbiamo un certo tizio Che si chiama Sexy Taco Sexy Taco Ah prima avevamo tipo Sexy Beach Adesso abbiamo Sexy Taco Esatto Proprio È la serata sexy questa Sì è Serata sexy Ecco io ora mi sto qui vicino al loro carrello Così quando arriva uno Muori brutto Ah mi ha ucciso Anche lei Lo stesso magari Sì Demolitore Oh finalmente vedo bene Demolitore Allora il demolitore Le proprietate del demolitore Sono quelle di riuscire a Incendiare tutti Ok Oh no Oh che dice Il demolitore No il demolitore non incendia Ma quando è che il demolitore Incendia tutti No nessuno Ne andanno mai Oh sce Mi hanno ucciso Una spia con l'ambasciatore Ma che ce l'ho fatto Ho ucciso uno Era un granatiere Quindi Perfetto Perché mi stucco Mi sono stuccato Mi sono stuccato Sì Abbiamo cinque esploratori sai Abbiamo cinque esploratori? Sei Sei Dimmi che Mi dica che lei non è diventato un esploratore No Sì perché io detesto gli esploratori In una maniera assurda Lo dico proprio così Fuori dai denti Io ho un odio verso gli esploratori Sono la razza che odio più di tutte Sì razza non li chiamo neanche classe È una razza È una razza Un parazzo bastarda Sì come quello che trovi sotto al mare Siamo in sette esploratori Tu non ne hai idea Sì ti vedo E ti sparo proprio Ecco La signora pulce Come chiamo io Quando il signor Ranno diventa un esploratore Ah la signora pulce Sono un punto Una pulce Una zecca Faccia a lei proprio Mi hanno ucciso Bene Io ritorno al debolitore Ecco Odio Ricordiamo che il debolitore Quante che doveva durare Quali sono Quante che spostiamo il nostro carrello Quante che doveva durare il video Non lo so E noestamente Finita questa partita Tanto Sì tanto Ho portato un pochino avanti Il carrello Per quanto potevo Ah si è sentato Ah abbiamo Abbiamo perso Si è perso Cazzo Mi è perso Mi nascondo Allora Sennò qua arrivano Ci fanno Lei dov'è scusi Sono qui alla base Ci stanno stuprando Bene bene Venga venga qui Dov'è lei Eh aspettiamo che vadano via Scusi Eccoli No scusi Diventi Diventi colui Che doveva finire il video Ecco Adesso Finisca Cazaccia Dai Finisca il video O le ficco una Guardi guardi qua Lo guardi Dove è andato? Sono scappato Torni qui Adesso Non può uber caricare intanto Finisca il video O la riempio O la riempio di Di siringa Questa è la fine del nostro primo video No in realtà del quinto video Mi sto caricando aiuto Questa è la fine del nostro primo video Quinto video Vabbè Primo ufficiale Sì La fine del nostro primo video Speriamo che vi sia piaciuto Speriamo di farvi divertire con altri video E basta per questa volta abbiamo finito Commentate Commentate Lasciate mi piace E bene dal tiranno E da Avevo capito Commentate la stupidaggine Proprio Sì sì Anche quella se volete Commentate Mettendo mi piace E dal tiranno E da Vic o Wick Dir si voglia È tutto quindi Ciao a tutti Sì Arrivederla